Musica Terzo giorno di business, oggi a Tarimondo Prezioso. In vetrina e prodotti di circa 500 aziende da scegliere per il prossimo Natale. Tempo di affari, ma anche di momenti istituzionali, come quello che ha visto Mario Giuffrida, presidente degli Orafi Commercio di Catania, a augurare al presidente del Tarim, Vincenzo Giannotti, un proficuo mandato. Il commendatore Giannotti, caro amico, da tanto tempo, auguriamo soltanto un buon lavoro, un in bocca al lupo, per il compito che è andato a prendere tutto qua. È un rapporto storico, si rinnova, ma si rinnova con stima e professionalità, anche da parte dell'associazione, quindi rappresentata al nostro amico Mario Giuffrida, che negli anni ha sempre dimostrato amicizia e professionalità all'interno del Tarimondo Prezioso. La giornata prosegue con un occhio anche al mondo dello spettacolo. Oggi a catalizzare l'attenzione dei visitatori, Casper Capparone, attore protagonista di numerose fiction del piccolo schermo, a Tarimondo Prezioso come volto di Aragonesi, azienda specializzata in gioielli da uomo. In questa fase di mercato c'era una carenza di un prodotto che fosse identificato e distribuito solo per l'uomo. L'uomo è diventato anche un accanito amante dei gioielli, più della donna paradossalmente. È diventato più vanesio volarsi nel tempo, ha più cura su se stesso, sulla sua figura, cosa che invece una volta era più appannaggio delle donne. Grazie a tutti.